Ecco Spike, un coleottero di sei mesi che fa il pittore, o almeno ci prova, e che è diventato un vero e proprio fenomeno del web. Spike è un Dorcus Alcides che vive in Giappone ed è l'animaletto domestico di una utente di Twitter di nome Mad Japan, che ha deciso di condividere con il mondo il talento del suo bizzarro amico.